Chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati fino a qui? All'inizio eravamo in pochi a crederci. Ma conoscete qualcosa di più contagioso dell'amore per la vita? Tutti dicono che noi ragazzi non abbiamo più ideali, ma non è vero. Dobbiamo solo trovare un motivo per cui lottare. E allora ci crediamo fino in fondo. Perché ogni istante è unico. E proprio perché potrebbe essere l'ultimo, bisogna dare a tutti la possibilità di viverlo. Le cure palliative sono questo. Ed è il motivo per cui ora un'intera città crede nel nostro progetto. Diamo qualità alla vita! Spero che quanto prima in Italia la legge 38 del 2010 che riguarda la terapia palliativa in età pediatrica venga percepita a livello non solo locale ma a livello nazionale, costituendo quelle reti sociosanitarie indispensabili per seguire in maniera ottimale i piccoli pazienti al proprio domicilio.